La Trading League è un evento incalzante, sono due manche, una di quattro giorni e una di due ore secche in un giorno solo. Bisogna dimostrare di essere bravi nel fare il trading multi-day e nel fare il trading intra-day, quindi il più bravo, quello che vince, le edizioni stagionali o il master finale, deve dimostrare di avere tante abilità. Già è difficile mettersi in gioco, quindi venite a sostenerci sul sito della Trading League, dove facciamo quattro edizioni stagionali, inverno, primavera, estate e autunno, e i più bravi si sfidano poi nel master finale. In questa prima competizione del 2019 avremo anche due esordienti, due ragazzi in gamba che non vedono l'ora di mettersi in gioco. Non perderteli. Ciao.